Come bisogna avere un'etica sul rettangolo di gioco, che sia calcio piuttosto che perché per il basket o il volley, lo stesso l'etica bisogna averla nella gestione, nella managerialità, nella conduzione di un club. Quindi siamo passati dal, oddio che cos'è questo fair play, al, beh effettivamente ci dobbiamo mettere in linea per trovare un giusto equilibrio. Le nomination di oggi, sia in termini di vivaglio che di bilancio, hanno dimostrato, ad esempio l'Atalanta è l'unico club dei sette che era presente in entrambi i premi, hanno dimostrato che c'è forte attenzione e che ci sono già dei modelli virtuosi di gestione. A livello di bilancio Juventus, Torino, Lazio e Atalanta. Sul vivaglio abbiamo di nuovo l'Atalanta, il Milan che ha vinto il premio, la Roma e l'Inter. Quindi abbiamo già sette club che si stanno muovendo nel modo migliore. E fermo restando che l'obiettivo rimane un obiettivo ovviamente sportivo, di passione, di emozioni, di tradizione dei club e delle città, il vincolo economico col crescere del calcio è diventato fondamentale. Quindi bisogna cercare per ottenere un risultato di creare le condizioni per che questo risultato sportivo possa realizzarsi. E naturalmente bisogna stare molto attenti ai bilanci. Si tratta di società per azioni, alcune volte di società quotate in borsa. Si tratta di società che possono dare dei risultati di medio periodo soltanto se sono equilibrate economicamente. Quindi un premio che in qualche modo rappresenti il fatto che crescendo gli interessi economici deve crescere l'attenzione all'equilibrio economico-finanziario è fondamentale. Sì, siamo contenti per questo riconoscimento perché ovviamente i parametri che ci hanno portato a conseguire questo premio sono parametri che riguardano anche gli aspetti tecnici, quindi appunto i giocatori che sono arrivati nelle varie nazionali minori, nei giocatori che hanno raggiunto la prima squadra e anche il conseguimento dei risultati sportivi. Quindi questo ci dà ancora più forza per continuare per la nostra strada. Vorrei ringraziare ovviamente il club che dà a disposizione tante risorse per il settore giovanile, quindi sia l'area tecnica del dottor Gagliani ma la dottoressa Barbara con l'area corporea. Insomma, noi dobbiamo cercare di sfruttare al meglio quelle che sono appunto le risorse che ci vengono messe a disposizione per poi creare anche valore aggiunto per il club. Grazie.